Continua a crescere il valore aggiunto delle imprese. Secondo quanto rileva l'Istat, il 2017 è stato il quarto anno consecutivo con il segno più. È salito del 3,9% a quota 779,5 milioni di euro. Le imprese attive nell'industria e nei servizi di mercato sono 4,4 milioni e occupano 16,5 milioni di addetti, di cui 11,7 milioni dipendenti. La dimensione media è di 3,8 addetti. Oltre 200.000 aziende sono organizzate in gruppi d'impresa. Per tutti coloro che si trovano in difficoltà economica e sociale nasce IMSS per tutti, un progetto nato dalla volontà delle istituzioni di facilitare l'accesso a servizi e strumenti erogati dall'Istituto di Previdenza. L'obiettivo è rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, creando delle isole di accoglienza con associazioni di volontariato e operatori sociali. Cerchiamo di rimuovere in questo modo quegli ostacoli di ordine sociale, economico, che compete a rimuovere alla Repubblica, appunto, a norma dell'articolo 3 della Costituzione. Un inizio più proattivo, l'ha detto. Esattamente. Quello che immaginiamo è intercettare prima il bisogno. Noi sappiamo quando nascono i bambini, sappiamo quando le persone vanno in pensione, sappiamo quando cadono in disoccupazione. A quel punto noi dobbiamo scrivere, contattare, intercettare prima il bisogno e dare la prestazione che l'individuo o il cittadino necessita. Anche nel sud Italia il microcredito di Banca Mediolanum verrà in soccorso alle famiglie in difficoltà. A Palermo la banca ha siglato un accordo con la fondazione anti-usura Santi Mamiliano e Rosalia. Si tratta del primo accordo del genere firmato in una regione del Mezzogiorno, dopo quelli di Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio. Banca Mediolanum ha iniziato dieci anni fa nel 2009 a collaborare con le fondazioni anti-usura. Essendo Milano siamo partiti con la fondazione San Bernardino di tutte le diocesi della Lombardia. Poi ci siamo estesi in Piemonte, in Liguria, in Sardegna, in Emilia-Romagna, nel Triveneto, in Lazio e questa è la prima convenzione che sigliamo nel sud, nel meridione dell'Italia a Palermo. Per noi è un successo e soprattutto è la volontà dell'azienda di continuare questo cammino che ci porterà a coprire tutta l'Italia. UbiBanca inaugura una nuova filiale a Via Nazionale a Roma con un nuovo layout all'insegna dell'innovazione tecnologica e della modernità. Penso che il primo slot non è la fine del nostro piano di investimenti ne verrà subito di seguito un altro per ammontare a circa 46 filiali di rinnovamento all'interno della regione. Un'innovazione che riguarda i nostri clienti che hanno la possibilità di avere nuovi servizi anche 24 ore su 24 con la nuova lobby, avere la CSA, la cassa self-assistita che consente di fare le operazioni digitali e quindi di cassa anche su una macchina e quindi in qualche modo superando la fila. Arriva sabato prossimo il Mutuo Day del gruppo bancario cooperativo ICREA. 75 banche di credito cooperativo del gruppo apriranno alcune filiali per presentare l'offerta mutui per privati e famiglie. Durante il Mutuo Day chi si recherà in filiale troverà consulenti che presenteranno offerta a condizioni favorevoli. Inoltre gli verrà rilasciato un coupon con le informazioni anagrafiche e la data concordata per finalizzare la richiesta di mutuo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS